Buono, sano, sostenibile. La via alla longevità passa per casa tua. Così Slow Food Belluno ha voluto promuovere, in un partecipatissimo incontro al centro Giovanni XXIII del capoluogo, protagonisti il dottor Germana, primario di gastroenterologia al San Martino, e Vittorio Fusari, chef stellato, le corrette pratiche alimentari. Slow Food è una grande organizzazione non prof internazionale che lavora in oltre 150 paesi per ridare dignità al cibo, nel rispetto di chi il cibo lo produce, in armonia con gli ambienti e con gli ecosistemi, utilizzando come metodo, scoprendo i saperi di cui il territorio e le persone sono custodi. Nel quadro dello sviluppo del pensiero di Slow Food siamo passati dal semplice apprezzare le qualità organolettiche del cibo a capire che il cibo ha una valenza molto importante in quella che è la prevenzione e la salute delle persone. Già, perché i dati sono preoccupanti? La popolazione sta invecchiando e questo è un risultato positivo, ma purtroppo i dati dimostrano come è vero che l'aspettativa di vita è molto lunga, ma che il 90% delle persone con più di 65 anni ha almeno una malattia cronica e il 65% ne ha almeno due. E quindi è doveroso da parte del Sistema Sanitario Nazionale fare in modo di divulgare corretti stili di vita perché l'importanza dell'alimentazione e dell'attività fisica è stata dimostrata anche l'anno scorso dallo scienziato Luigi Fontana come possa farci vivere molto più a lungo e in salute. E' questa la sfida che ci attende. Ma le buone pratiche non sono antitetiche al buon gusto. Il cibo è la cosa più importante che abbiamo perché il piacere del nutrizio ci permette la sopravvivenza e tutto ciò che mettiamo dentro di noi deve essere all'altezza della bellezza con cui vogliamo rapportarci nella vita. Quindi il cibo importante e buono deve essere fatto da materie prime e straordinarie e trasformato in maniera adeguata attraverso la cultura dei popoli. Noi abbiamo il diritto e il dovere di spendere questo per noi.